Durissimi commenti sui social dopo la foto dei ragazzini che praticano snowboard in uno dei nostri luoghi sacri, l'ossario di Cimagrappa. Uno scrigno di dolore, memoria, morte, rispetto, onore e speranza violato dall'ignoranza, dalla non conoscenza della storia del nostro monte. E' mediata la reazione dell'assessora regionale Elena Donazzan. Dico a questi ragazzi, alle loro famiglie, ma anche ai docenti che magari questi ragazzi li hanno avuti a scuola o li hanno ancora a scuola. Interroghiamoci sul perché questi non capiscono proprio nulla, da chi non hanno imparato quell'educazione, perché non sanno che cos'è il sacrario militare. E noi, rappresentanti delle istituzioni, noi chiamiamo il grappa. Interroghiamoci se veramente stiamo facendo tutto il possibile perché ci sia una gestione vera, rispetto, presenza. Gli alpini sono sempre i primi con i fanti ad essere generosamente presenti sul sacrario. Eppure anche loro è stato detto che col covid, il covid sembra che giustifichi tutto o qualsiasi cosa. Ebbene, gli era stato detto non potete andare lassù perché siamo in una situazione di emergenza e di controllo. Beh, forse mancano i controlli. È quello che sta accadendo sul sacrario militare. Accanto a lei anche il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, e il commissario provinciale di Treviso, Giuseppe Montuori, che condannano con fermezza il gesto e auspicano una rapida identificazione da parte delle forze dell'ordine. A proposito, Donazzan ha un suggerimento, una volta individuati i giovani snowboarders. Dovremmo far fare un bel servizio obbligatorio, in grappa, in sacrario, a vigilare. Magari questo gli serve di educazione e anche alle famiglie serva per far capire che va raccontata la storia e va insegnata al rispetto.